Cari amici, alle mie spalle vedete una foto e quindi sapete che si parlerà necessariamente di quanto è successo. Tanto speriamo ovviamente che le due ragazze, Vanessa e Greta, stiano bene, veramente. Speriamo di non aver bisogno mai noi cittadini comuni, noi volontari forzati di sopportare la vita di tutti i giorni senza nemmeno un centesimo dei soldi nostri a poterci dare una mano, senza nemmeno un centesimo dei soldi pagati per questo riscatto, per questo sequestro di persone. Insomma, tutti vorrebbero in qualche modo far parte di questi milioni di euro. disoccupati, esodati, madri senza marito, senza reddito, senza lavoro, senza salute, per loro e per i figli. insomma, tutti quelli che vivono una vita di M, quelli potrebbero chiedere di fare un giro in Siria, sperare di essere rapiti, trattare sul prezzo e con una percentuale solo del 10% risolvere tutti i loro problemi. Adesso ovviamente è un paradosso, ma fuori da questo paradosso. Mi domando, e sono sicuro lo domanderete anche voi a voi stessi, ma quanto tempo, quanti secondi ci vorrebbero al Premier Superman per scrivere e far approvare una legge di un solo articolo? Chi va all'estero per volontariato, per onlus, per decisione propria, senza costrizione, senza essere costretto ad emigrare per andare a lavorare per colpa di uno Stato dissennato in caso di sequestro, non essendo stato autorizzato? Arrivederci, sono fatti suoi, sono fatti suoi. Oppure, eh lì, poi dice che uno si fa venire i tarli del dubbio, oppure ci sono interessi tanto grandi sotto nel mondo della gestione, del volontariato, nel traffico di immigrati, nel mondo della cooperazione, che la somma spesa per le due ragazze rappresenta solo un trascurabile effetto collaterale, tanto più che i guadagni finiscono nelle poche tasche di alcuni. E le perdite tanto si recuperano dalle nostre tasche. E una cosa per finire, nessuno si offenda, nessuno gridi oggi allo scandalo. L'Italia è basata sulle trattative e tutti i governi di ogni segno, con tutti i ministri di destra, di sinistra, di centro, hanno pagato per i riscatti. Quando leggo i titoli, siamo il bancomat dei terroristi? E perché oggi lo scopri? Siamo sempre stati il bancomat dei terroristi.